L'occhio, finestra dell'anima, abbraccia la bellezza di tutto il mondo. E' l'occhio che tutte le umani arti consiglia e corregge, che conduce l'uomo in ogni luogo. Hai vinto la tua sfida impossibile, rappresentando l'unione simbolica tra arte e scienza. Io voglio intendere l'universale misura dell'uomo. Studiare e disegnare sono per me l'unico rifugio sicuro. La pittura è scienza, nipote di natura e parente di Dio. Solo tu sei riuscito a rappresentare i sentimenti umani come raffigurazione del mistero divino. E il tuo infinito desiderio di conoscenza si fa vivo. Questa è la tua mente, la mente di un genio. La mente di Leonardo da Vinci Come è nato il piano americano? Fu introdotto la prima volta nel genere western per la necessità di avere un'inquadratura dalle ginocchia in su, ovviamente per mettere in campo le fondine delle pistole, corredo d'abbigliamento fondamentale in questo genere. Lo sapevate? Grazie per essere stati con noi ragazzi. Se non siete ancora iscritti non dovete fare altro che cliccare qui sotto e attivare la campanellina per le notifiche. Ciao da Valeria.